Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a un nuovo incontro con la CISL, questa sera con noi c'è Roberto Benaglia, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il tema lo vedete già lì sotto il numero di telefono, i telefoni sono già aperti, potete intervenire, chiedere quello che più vi interessa, fugare dei dubbi, soprattutto sul tema che leggete, cioè l'accordo per l'apprendistato all'interno dell'artigianato, sperando che poi non si fermi lì e questo credo che sia l'obiettivo di tutto, questo apprendistato che sostanzialmente accompagni in modo dolce ma ostinato, deciso, produttivo, lo studente verso il mondo del lavoro. Ci spiega tutto Roberto Benaglia. Sì, eccoci, diciamo la novità del nostro accordo è che per la prima volta in Lombardia va a regolare un tema completamente nuovo, il fatto che cominciamo ad avere degli apprendisti che non sono solo dei giovani che stanno cercando lavoro, ma degli apprendisti che cominciano a concludere il loro percorso di studi professionali, non semplicemente con un tirocinio ma attivando un contratto di lavoro per raggiungere la qualifica. Ecco, la cosa innovativa è che qui non stiamo parlando di, tra virgolette, tirocinanti stagisti, ma di gente che ha un contratto vero, cioè sono lavoratori a tutti gli effetti. Esatto, sono studenti che hanno un contratto lavorativo, la novità è stata supportata dalla riforma del Jobsat che tra le tante cose ha rilanciato questo strumento che esisteva già ma che era pochissimo utilizzato. Ci sono due novità in campo, il Jobsat che ha molto incentivato e rilanciato questo strumento, che come poi possiamo dire anche riguarda un esempio che in Europa ha grandissimo successo, e il Regione Lombardia che ha finanziato gli enti di formazione professionale incentivandoli ad avere un certo numero di studenti che possono andare verso le imprese con questi contratti. Ovviamente c'era bisogno di una copertura contrattuale, abbiamo fatto un accordo che speriamo, noi contiamo sul fatto che possa almeno riguardare 100 ragazzi in questo mese di marzo in Lombardia, 100 ragazzi che verranno assunti nel mese di marzo e che concluderanno il loro anno scolastico raggiungendo la qualifica di formazione professionale elettricista, panettiere, estetista, nelle varie forme previste dalla scuola, dall'istituzione professionale e concluderanno appunto il raggiungimento del diploma con un contratto di lavoro. È un modo per avvicinare sempre di più scuola e lavoro che nel nostro paese sono rimasti troppo distanti per anni. Voi ci avevate già provato, avevate già sottoscritto qualcosa di simile quattro anni fa, Jobs Act e non solo credo abbiano chiarito un po' tutte le modalità di questo strumento insomma. Certo, diciamo che nell'artigianato c'è sempre stata una grandissima sensibilità sia dalle aziende che anche da parte nostra perché piccole imprese, le micro imprese hanno bisogno di ragazzi che imparano mestiere. Spesso gli artigiani si lamentano del fatto che non c'è più nessuno che voglia fare questi mestieri a volte manuali, in realtà oggi c'è un forte orientamento delle famiglie e dei ragazzi anche verso questi mestieri che danno più soddisfazioni a volte di altri e quindi quattro anni fa avevamo già fatto un accordo, ha poco funzionato perché in termini di numeri, perché in questi anni le normative su questo apprendistato sono state poco chiare, un po' farraginose, mancavano dei decreti e pochi enti riuscivano a collocare dei ragazzi, oggi invece c'è un programma preciso della regione e del governo e noi non potevamo certamente essere assenti o essere distratti, per cui noi speriamo, come si diceva che anche altri settori facciano degli accordi, posso dire che il giorno 11 che quindi è questo venerdì, c'è un incontro nazionale tra Cigelle e Cisoria e Confindustria, sarebbe una grandissima notizia positiva se la più grande organizzazione datoriale, i sindacati su tutta Italia trovassero un'intesa, perché qua il problema è che questi ragazzi ovviamente fanno molta formazione, fanno formazione a scuola, formazione in azienda, fanno esperienza lavorativa, per cui hanno bisogno di regole, anche di tutele e anche di accordi salariali fortemente incentivanti, perché è chiaro che la loro paga noi l'abbiamo rivista sulla base del fatto che questi sono ragazzi che non sono produttivi al massimo, ma soprattutto devono aver ben distinto il lavoro dalla formazione e quindi questo è assolutamente importante perché permette di far sì che questi ragazzi non sono buttati allo sbaraglio, ma hanno un tutor che li segue sia a scuola che in azienda e questo è un fatto importante. Aggiungo questo aspetto, nell'artigianato esiste una cosa che si chiama bilateralità, che a volte può sembrare fumosa, che cos'è? È il fatto che nel mondo delle piccole imprese le aziende per diritto contrattuale, obbligo contrattuale pagano delle quote, c'è un ente bilaterale gestito dalle parti che in maniera molto trasparente gestisce questi soldi per dare delle provvidenze, degli incentivi alle imprese e ai lavoratori, in termini di mutualistici. Ecco, noi abbiamo anche deciso che quella piccola impresa artigiana, magari sono papà, figlio e cinque dipendenti, che decide di assumere un apprendista, possa avere l'azienda un bonus, perché l'azienda deve attrezzarsi con un formatore, avere un tutor formato, ha delle spese. Ma lo stesso apprendista abbiamo previsto, ci pare un segnale educativo, che se il ragazzo raggiunge la qualifica, quindi se ce la fa, anche lui possa avere da l'ente bilaterale un piccolo premio, 200 euro se il contratto dura meno di due anni, 400 euro se questo contratto dura più di tre anni, perché è giusto che in una logica anche di premialità si vada a portare imprese e studenti a dire io ho un percorso e voglio raggiungerlo fino in fondo. Allora, per quanto riguarda lo stipendio invece dell'apprendista, perché non è tirocinante, non è stagista, ma è apprendista, è uno stipendio che comunque esiste ed è già un modo, come dire, di approcciare un mondo che sarà il suo, perché quello del lavoro sarà il suo e che non lo è ancora. Però ci sono soldi lì, per cui è un contratto vero e proprio questo è un incentivo primo, ma forse ancor di più è una risposta, come diceva Benaglia, a una domanda di imprese, soprattutto artigiane, che oggettivamente ne hanno di più rispetto ad altri lavori come possono essere, magari più soddisfacenti dal punto di vista il medico, però in realtà adesso bisogna equagliare e equagliare è che mancano artigiani in questo momento in Italia, in piccole e medie imprese. Esatto, nelle piccole e medie imprese c'è bisogno di imparare dei mestieri che non si imparano dalla sera mattina. C'è già un'ottima cultura in Lombardia, ci sono enti formativi seri che hanno sviluppato già da anni una rete di contatti con imprese in cui fanno fare delle attività di tirocinio, ci sono imprese interessate a vedere questi ragazzi, a dargli una possibilità concreta e spesso anche a selezionarli per poterli poi assumere. Oggi abbiamo una marcia in più, perché appunto l'impresa e il ragazzo si possono conoscere dentro un vero e proprio contratto di lavoro. Il ragazzo firma un contratto di assunzione, l'azienda lo assume, la durata minima è sei mesi, la durata massima è tre o quattro anni a secondo della durata degli studi, non avremo in questi anni ancora ragazzi che faranno tre anni, ma speriamo nel giro di pochi anni di raggiungere quello che succede in altri paesi europei. Ecco, parlava di esempi Benaglia prima, hai detto magari poi ne parliamo, parliamo neppure, cioè c'è un faro da questo punto di vista? Il faro è il fatto che in Italia siamo un po' all'inizio, siamo ancora dei pionieri, ma all'estero ormai bisogna guardare molto questa dimensione, l'apprendistato quando tu stai studiando e stai terminando gli studi è una realtà concreta, ci sono paesi europei, la Germania in testa che ha percentuali che vanno tra il 50 e il 70% degli studenti che concludono gli studi con un contratto di apprendistato e questo fa sì per esempio, che c'è un dato che stupisce tutti spesso, in Germania la disoccupazione giovanile è più bassa della disoccupazione generale, mentre da noi è quattro volte di più, la disoccupazione sta all'11-12% e in Italia i giovani disoccupati sono al 30-40%, perché? Giovani vuol dire under 29, giusto? Perché ci sono degli studi staccati dalla scuola, non c'è un collegamento, non c'è un orientamento fatto in maniera responsabile. in Germania, la banalizzo così, ma questo è il concetto chiaro, che tu faccia il panettiere o che tu faccia l'ingegnere nucleare, quindi lavori manuali semplici o anche attività professionalmente molto complicate, tu concludi il tuo ciclo di studi cominciando ad andare non a caso da un panettiere, quindi facendo un'attività corrente, noi oggi spesso abbiamo dei ragazzi in Italia che studiano una cosa ma poi non c'è un mercato del lavoro organizzato e trovano un lavoro completamente diverso, ho fatto ragioneria ma poi ho trovato il lavoro da barista, che è sempre meglio che stare a casa, ma è un grandissimo spreco, arrivare a questi modelli è una strada che dobbiamo assolutamente fare per modernizzare e dare una mano soprattutto a questi ragazzi che oggi rischiano di essere senza grandissimi aiuti, quindi bisogna investire moltissimo. Dicevo della retribuzione, questi sono ragazzi che anche sulla base della legge del Jobsat che ha stabilito alcuni criteri, quando studiano in classe almeno 550 ore dell'anno scolastico le devono fare in classe, non è che lavorano senza studiare, devono studiare perché la parte teorica di istruzione è importante, non prendono nessuna retribuzione, quando fanno formazione in azienda, perché in azienda fanno anche formazione tecnica, pratica da un punto di vista, la legge ha stabilito che gli si dà il 10% della paga base, noi abbiamo invece nell'accordo stabilito che gli diamo il 20% perché vogliamo puntare su questa cosa e quando invece poi lavorano per le ore che lavorano in azienda, la percentuale di partenza è il 60% della paga base dell'operaio di riferimento, perché ovviamente un ragazzo di 16-17 anni non ha gli stessi livelli di produttività, è proprio la prima esperienza lavorativa, in questo modo questi ragazzi hanno salari tra i 500-600 euro mensili, mentre stanno ancora studiando, quando poi finirà, raggiungeranno la qualifica, potranno essere trasformati in operai o in impiegati, oppure fare l'altro apprendistato, quello professionalizzante e quindi continuare questo ciclo, è un modo molto interessante per cominciare a camminare nel mondo del lavoro. Posso chiedere come, cioè ci sono delle graduatorie, delle liste, cioè il ragazzo che vuole accedere a questa cosa cosa deve fare, giusto per andare sul pratico? Allora, i ragazzi che quest'anno da subito, da questo mese di marzo sono interessati sono i ragazzi della formazione professionale, non gli istituti tecnici, la formazione professionale che in Lombardia riguarda, ricordiamolo, 60.000 ragazzi, quindi è molto diffusa, per fortuna, la regione investe tantissimo da questo punto di vista e sono i ragazzi dell'ultimo anno, quindi del terzo anno, diciamo che i numeri in questa fase sono ancora abbastanza limitati, diciamo che sono le scuole che assieme ai ragazzi scelgono, perché ci sono anche ragazzi che non se la sentono, non si sentono pronti e preparati, quindi è giusto avere non un obbligo ma un criterio di opportunità, quindi le scuole hanno, gli istituti scolastici hanno un certo numero di quote di queste doti che possono attivare ed intesa con spesso anche le famiglie, perché alcuni di questi sono minorenni e con le imprese, si trova questa possibilità. Siamo all'inizio, diciamo che entro il mese di marzo ci saranno queste assunzioni perché poi i ragazzi devono fare sei mesi per poter raggiungere il diploma, è il primo anno che fa un po' da testa da questo punto di vista e noi contiamo, ripeto abbiamo già dei numeri in queste settimane interessanti, ci saranno almeno 100 nuovi assunti, 100 apprendisti che insomma... Ma poi si va avanti, cioè questi sono i 100 di marzo, poi potrebbero essercene 100? No, perché in realtà sono 100 quest'anno, la grande chance è lavorare sul prossimo anno, anzi noi dobbiamo non perdere tempo, il prossimo anno questo accordo deve essere a disposizione primo di questo nuovo sistema sempre di formazione professionale, aumentando la possibilità dei numeri, noi chiediamo alla regione di aumentare il finanziamento delle doti da questo punto di vista. Che finora è nell'ordine di? Finora è nell'ordine di un massimo quest'anno di 630 ragazzi in Lombardia, quindi è un numero interessante perché 630 ragazzi è già una bella platea, si sperimenta questo, ma ricordo che soprattutto questo è un accordo a disposizione di tutti, anche senza incentivi dotari della regione, per esempio degli istituti tecnici, cioè i ragazzi che fanno perito, che fanno ragioneria, che fanno perito linguistico al quarto, al quinto anno, anche qui in Lombardia esiste una rete di scuole secondarie, di presidi molto attivi, che già fanno molti tirocini, ecco alcuni di questi ragazzi potranno passare dal tirocino a un contratto di apprendistato, che è un buon modo per concludere diciamo in maniera proprio esemplare un percorso da studenti in maniera appunto positiva. Ma poi in realtà più che altro forse l'obiettivo, almeno credo, sia quello che oltre a concludere un ciclo, sostanzialmente si leghi l'inizio di un altro ciclo, perché altrimenti sarebbe uno stagio, invece così dovrebbero essere cose diverse. Diciamo sempre che noi facciamo gli accordi, ma poi bisogna verificare, ovviamente il compito per le vacanze, diciamo per tutti, è se ci saranno 630 ragazzi, speriamo, in Lombardia assunti con questi contratti, vedere fra un anno, magari anche a Natale, quanti dopo aver raggiunto il diploma, eccetera, sono rimasti a lavorare lì, oppure magari hanno trovato un altro posto di lavoro, ma coerente. Se vedremo che i numeri saranno interessanti, vuol dire che questi sono ragazzi che con queste esperienze sono molto più spendibili nel mercato del lavoro. Diciamocela chiara, oggi le imprese ti chiedono che esperienze hai fatto, se tu puoi andare in giro a dire, io ho studiato, ma ho fatto un contratto di apprendistato di 6 mesi, con questi risultati, oggi ti si aprono molte più porte. Sì, 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 a questo penso sia in dubbio questo. Allora, facciamo la pausa pubblicitaria, poi torniamo, affrontiamo ancora i temi legati a questo contratto di apprendistato e dato che ne ha parlato Benaglia poco fa, anche quello legato alla disoccupazione giovanile e cercare di capire davvero se si può fare qualcosa e cosa si può fare. A tra poco. Eccoci, allora, allora, con Benaglia ancora e parliamo di questo contratto di apprendistato perché? Perché alla fine il Jobs Act ha lavorato molto su un fronte e forse meno su questo e probabilmente è il caso anche di provare a rilanciare, perché il Jobs Act, lo sappiamo, lo dicono in tanti, anche i detrattori di questa misura varata dal governo Renzi, ha sostanzialmente stabilizzato determinati contratti rendendoli a tempo indeterminato, però ha fatto quello, dicono in molti, non ha fatto granché di più, dico i detrattori, nel senso che sono tanti, però ci sono anche quelli che invece sostengono che sia servito, però bisogna fare dei passi avanti anche lì, insomma. Sicuramente io penso che non servono le tifoserie pro contro a prescindere, servono a guardare i dati che hanno detto alcune cose, allora non c'è dubbio che non solo il Jobs Act, ma soprattutto gli incentivi alle assunzioni importanti che il governo ha messo per l'assunzione a tempo indeterminato e anche, diciamolo, un certo miglioramento del mercato del lavoro e dell'economia, perché diciamocela chiara, le aziende assumono se c'è lavoro, non se ci sono incentivi, con gli incentivi possono assumere meglio e di più, ma se c'è lavoro, quindi un po' di lavoro si è mosso, meno cassa integrazione, lo dico del sindacalista, è un dato oggettivo, noi che abbiamo sempre guardato con grande attenzione alla crisi e quindi da questo punto di vista il 2015 è stato l'anno del boom dell'assunzione a tempo indeterminato. In Lombardia abbiamo registrato un più 54% rispetto all'anno precedente, che sicuramente è un dato importante, non si può banalizzare un dato di questo tipo. E rispetto alla cassa integrazione, solidarietà e tutto? La cassa integrazione 2015 si è chiuso rispetto all'anno precedente e un calo del 45%. Quindi i numeri si sono mossi, il 2015 è stato il primo anno che non dico la crisi è finita, ma l'uscita dal tunnel sicuramente si è un po' abbottrata, non per tutti certamente, perché c'è ancora l'azienda in crisi, c'è il settore in difficoltà, ma ci sono quelli che stanno trainando. La crisi è selettiva, la crisi ha cambiato molte cose, non si torna certamente alle regole del mercato dell'oro di prima. Con questo dato ovviamente, il dato di cui nessuno ha parlato è che nel 2015 l'apprendistato in generale è calato, anche in Lombardia. In Lombardia abbiamo avuto 7.000 contratti in meno rispetto all'anno precedente, perché c'era questa situazione concreta che era molto più facile, incentivante, assumere uno senza le regole dell'apprendistato. L'apprendistato è visto spesso, a volte anche dai consulenti del lavoro, da chi decide per le imprese, come un contratto di cui bisogna stare attenti perché c'è un po' di burocrazia e un po' di carta. Io credo che questa sia anche un po' una leggenda metropolitana, i contratti di apprendistato oggi sono immediati, semplici, per la grande impresa ma anche per la piccola impresa. Certo, richiedono il fatto che tu hai forti agevolazioni ma devi insegnare un lavoro, non è che usi il lavoratore. Hai anche dei doveri di un certo tipo. Hai dei doveri ed è importante avere le verifiche che il ragazzo possa imparare. Ecco, noi puntiamo tantissimo sul fatto che essendo nel 2016 con la nuova legge di stabilità diminuiti gli incentivi per il tempo indeterminato che è giusto che rimangano, l'apprendistato torna ad essere molto più conveniente, anche l'apprendistato cosiddetto professionalizzante. Quindi bisogna fare il tutto possibile. Il tema oggi della disoccupazione giovanile è un tema che non possiamo, se nella crisi ha pagato alcuni prezzi, se arriva un po' di riprese non possiamo ancora far pagare i giovani. Io devo dire che uno dei dati che più è sconcertati in questo momento per un sindacalista è vedere come il mercato degli over 50, che è una nuova fascia di popolazione lavorativa, dieci anni fa in Lombardia, sopra i 50 anni, andavano quasi tutti in pensione perché hanno cominciato da giovani, perché c'erano regole pensionistiche diverse. Oggi vediamo che il mercato degli over 50, che pur hanno dei problemi, si muove, si muove troppo poco quello dei giovani e non possiamo permetterci che con la ripresa i giovani restino ancora in serie B, per usare un termine calcistico, riescano invece ad avere un grandissimo investimento. Però il problema è questo, le imprese cercano competenze e già dalla scuola queste competenze vanno formate e costruite, quindi il collegamento deve essere forte. Poi c'è anche un... parlando proprio fuori dai denti, ci sono tanti piccoli imprenditori che dicono io ho preso il ragazzo in stage, o comunque più che altro in stage, perché parlo dello stage soprattutto, e a un certo punto questo finisce lo stage e se ne va lui. Anche se io sono abbastanza positivo nel volerlo tenere, alla fine poi si perdono. Che è un... non so se è una leggenda o meno, ma è un racconto diverso da quello che fanno tanti che dicono invece che sostanzialmente gli stagisti vengono usati e poi buttati nell'umido sostanzialmente dagli imprenditori. Qual è la realtà? Sta a metà strada? Non lo so. La realtà più che a metà strada è il fatto che questo è un mondo moderno, molto complicato dove ci sono tantissime storie, tantissime cose. I tirocini si sono molto diffusi, i tirocini sono un elemento essenziale sia quando studio che alla fine dello studio, perché sono un'esperienza lavorativa e formativa che spesso costituiscono il primo passo, proprio perché l'apprendistato, quello per la qualifica è poco diffuso, il primo vero passo per calpestare un ufficio, una fabbrica, un posto di lavoro e diciamo attrezzarsi in termini concreti. Il problema è che dei tirocini c'è stato anche un grandissimo abuso, perché un conto è l'esperienza formativa, un conto è un tirocino usegetta che spesso vediamo anche a volte nei supermercati dove ti fanno quattro ore di formazione e poi viene messa subito a fare la cassiera perché costi molto meno che un posto, una lavoratrice con contratto di lavoro. Questo va assolutamente... Io penso che la normativa dei tirocini vada rivista, però diciamo che l'altro corno del problema è il fatto che i percorsi oggi dei giovani sono spesso non così lineari come i giovani di una volta quando eravamo noi dove avevi la scuola e poi cercavi alla prima o la seconda occasione lavorativa poi tiravi dritto sostanzialmente. Oggi i ragazzi hanno propensioni, possibilità, a volte anche incertezze per cui i percorsi sono più zigzaganti. Diciamo che però le imprese devono... Noi vogliamo lavorare con le imprese per creare agevolazioni, ma per creare agevolazioni che creano più posti di lavoro e impegni seri. Le imprese devono, non possono pretendere ragazzi già formati completi senza avere un investimento. Magari a 400 euro al mese. Cioè nel senso poi fanno anche questi ragionamenti. I tirocini devono essere tirocini di qualità, i tirocini servono se c'è un tutor, non che un ragazzo come te, ma un tutor vero che si trasferisce le competenze e le esperienze. Ci sono aziende che pagano i tirocini a 800 euro, ce ne sono in giro anche per Milano. Cioè aziende che vogliono dare delle opportunità formative, riconoscendo anche il fatto che uno spesso sta lì 8 ore, magari anche di più, e ti dà un contributo lavorativo. Quindi ci sono anche esperienze positive. Noi dobbiamo far sì che le esperienze positive traccino molto di più il segno e siano molto più viste come riferimento. Da ultimo, in due minuti se ce la facciamo. Allora, abbiamo parlato di questa piaga della disoccupazione giovanile che è quattro volte, ha detto lei, quella generale, quella nazionale. In due minuti, so che ce ne vorrebbero 25, ma forse ore più che minuti, che cosa bisogna fare, a parte questo che abbiamo detto, apprendistato e tutto, la prima cosa che farebbe Benaglia per provare a dare una risposta ai giovani che si sentono persi? Dunque, c'è un grandissimo programma di cui si è parlato all'inizio, l'anno scorso, un po' mediaticamente, che è un po' scomparso, che va assolutamente rilanciato, che si chiama Garanzia Giovani. Cos'è Garanzia Giovani? Garanzia Giovani è un programma europeo che ha dato al nostro paese tantissimi soldi, un miliardo e 700 milioni di euro che il nostro paese non sempre ha lì pronti da spendere per i giovani, non per garantire dei posti di lavoro, ma per garantire che soprattutto i giovani disorientati, i giovani cosiddetti NIT che non studiano e non lavorano, quello che ha fatto un tirocinio ma poi è otto mesi che è a casa, non è più chiamato, ha fatto domande eccetera, ecco questi giovani vengano presi in carico dai centri per l'impiego ma anche dalle agenzie private, perché sono quelle che oggi hanno in mano la domanda e l'offerta e possono essere reinseriti attivamente nel mercato del lavoro. Noi dobbiamo preoccuparci di fare un grandissimo rilancio di questo programma e di mettere non tanto i giovani a contatto solo con i centri per l'impiego ma di dare a loro delle chance concrete che siano anche dei tirocini di base ma che permettono di far sì che il numero di giovani, soprattutto quelli più svantaggiati, entri un po' a centro campo nel mercato del lavoro, perché oggi il rischio è che rapidamente le tue competenze si perdono, si consumano e tu ti avviti su te stesso, non possiamo permettercelo quindi ci vuole, oltre a questo rilancio dell'apprendistato molto forte, ci vuole questa cosa e poi un altro tema su cui stiamo lavorando e su questo ne potremo parlare un'altra volta seriamente, è il fatto che questo paese ha scoperto l'alternanza scuola lavoro che per legge è diventato un obbligo, quest'anno in Lombardia ci sono 74 mila studenti delle terze obbligati a fare questa cosa, ci sono tutti un po' che stanno prendendo le misure ma speriamo che nel giro di 3-4 anni diventi un grandissimo veicolo per fare dei giovani più responsabili. Bene, grazie, siamo in chiusura, grazie a Roberto Benaglia della CISL Lombarda, grazie davvero, grazie a voi per averci seguito, all'incontro con la CISL torna lunedì prossimo puntuale 18.30 con Paolo Zani, a lunedì prossimo intanto alle 19.15 il telegiornale di Telenove. Grazie. Grazie.